È iniziato il mondiale per club degli eSport, l'U.S. Avellino è stato inserito nella zone 4, conferenza 5 di terza divisione, insieme al team Vertex, il football Acquaviva e tanti altri club. Un girono abbordabile con la formazione bianco-verde pronta a farsi valera. Nel match d'esordo i player Francesco Landi e Francesco Di Giorgio hanno battuto 5-1 l'Acquaviva eSport in due gare che hanno visto primeggiare i player bianco-verdi. Brutta sconfitta nel secondo match di giornata contro i Vortex, che superano i lupi per 5-1 senza grosse difficoltà. Nel terzo turno l'Avellino ha pareggiato 2-2 contro i Gerv. Adesso la strada per la formazione bianco-verde si è complicata un po' e il 7 gennaio si proverà l'assalto a girone per superare il turno. I player bianco-verdi hanno abbassato la guardia dopo la prima vittoria ottenuta all'esordio. I prossimi incontri dell'Avellino eSport sono in programma il 7 e l'8 gennaio 2021. Potete seguire le gare in diretta sul canale Twitch dell'US Avellino.